Musica Abrogata la legge sotto inchiesta dopo l'indagine aperta sul distretto conciario di Santa Croce il Consiglio regionale cancella l'emendamento riguardante l'allentamento dei controlli sugli impianti di depurazione più sicurezza nel comparto tessile il Consiglio approva una risoluzione per aumentare le misure a garanzia della sicurezza dei lavoratori dopo il dramma di Luana Dorazio Buonasera ben ritrovati a Monitor Consiglio Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'abrogazione dell'articolo di legge finito nell'inchiesta della procura antimafia di Firenze su traffico illecito di rifiuti e corruzione nel distretto conciario di Santa Croce Parliamo delle norme che disciplinano la depurazione delle acque industriali L'emendamento in questione, quello che è stato cancellato, allentava i controlli sull'attività degli impianti di depurazione La decisione, come detto, è stata presa all'unanimità Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato a partire dal primo commento del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni Ma io rimango davvero contento dell'approvazione della proposta di legge che revoca quello che era l'emendamento che aveva costruito un percorso, quantomeno nel profilo interpretativo, che è stato poi oggetto di tante discussioni e che aveva messo il Governo nelle condizioni di porre un rilievo alla Corte Costituzionale sulla competenza in questa materia ambientale di rilascio delle acque da parte del depuratore con competenza nazionale o invece con altri tipi di valutazioni Ecco, io quando mi sono reso conto che saremo andati alla Corte Costituzionale per questa decisione, per questo conflitto di opinioni interpretative il 7 di luglio ho detto chiudiamo, chiudiamo tagliando la testa al toro evitiamo che vi sia questo conflitto ma manteniamo il profilo più rigoroso di quello che sono le procedure che a livello nazionale sono state previste c'è una gerarchia delle fonti e devo dire che al di là di tutto quello che è accaduto ovvero l'approvazione dell'emendamento circa un anno fa nel maggio del 2020 la conferma dell'interpretazione di questo emendamento nel contesto legislativo da parte della Giunta con una delibera dell'allora Giunta quella che mi ha preceduto il 7 di agosto l'atteggiamento molto rigoroso da parte degli uffici che hanno fatto sì che queste normative non trovassero applicazione durante quest'anno ecco che io ho preso l'iniziativa durante il Consiglio regionale in cui discutemmo delle vicende del settore conciario di tagliare la testa al toro e con un provvedimento di legge abrogare quell'emendamento discorso questo rende la posizione della Regione Toscana molto chiara molto trasparente, molto aderente a quelle che sono le normative nazionali in materia di rilascio di autorizzazione ambientale sui depuratori e al di là delle dichiarazioni di voto, delle opinioni, dei discorsi, delle interviste il Consiglio regionale, la mia proposta, l'ha approvata all'unanimità e quindi ritengo di aver operato per il meglio nell'immagine che a questo punto la Regione Toscana può avere anche nei confronti di quello che è il profilo interpretativo in questa materia così delicata ma su cui dobbiamo essere così rigorosi come è la tutela dell'ambiente Dopo Gianni sentiamo Lucia De Robertis Presidente della Commissione Ambiente che ha elaborato le modifiche alla legge e che ci spiega il senso di questa operazione Allora con la nuova legge abbiamo cancellato l'emendamento quindi siamo ritornati al testo originario sono stati chiariti alcuni aspetti che davano possibilità di interpretazione dal punto di vista pratico nulla nel senso che poi l'emendamento come è ben noto non è stato mai quanto previsto l'emendamento non è stato mai applicato dai tecnici quindi non cambia dal punto di vista del regime autorizzatorio che è sempre stato richiesto alle aziende che continuerà a essere richiesto e nei prossimi anni 2023 comunque finirà questo sistema delle proroghe tutti gli impianti così come adesso saranno sottoposti ai regimi autorizzatori che di volta in volta sono necessari per le attività che vengono espanse, aperte, implementate o quant'altro Adesso sentiamo gli altri consiglieri alcuni rappresentanti dei gruppi politici sia di maggioranza che di opposizione Noi votiamo in modo favorevole a questa PDL perché non c'è dubbio che dal punto di vista formale vada corretto un gravissimo errore voluto politicamente dal PD all'interno di quella legge Ma il dato politico di oggi chiude quella vicenda? Il dato politico di oggi non chiude assolutamente la vicenda perché c'è un'inchiesta che dice che quell'emendamento è ancora all'attenzione della magistratura e di chi ha anche altre competenze Certo rimaniamo basiti dall'assenza per ben due giorni del consigliere Pieroni che continua a non metterci la faccia su un problema che lui come primo firmatario ha provocato e abbiamo in discussione ribadito più volte che noi tutti siamo qui per condannare la mafia ma dobbiamo anche fare in modo di non agevolare la mafia portando emendamenti che non sono per il bene dei cittadini ma che sono probabilmente per finalità personali, politiche che noi riteniamo inaccettabili Noi come si ricorda quell'emendamento non l'abbiamo votato arrivò in fondo, nessuno ha avuto all'epoca la premura di illustrarcelo e è stato inserito in quella legge che poi è stata impugnata la Giunta ha provato a difendere la legge con delibera che dava mandata all'avvocatura in quel senso e siamo arrivati ad oggi quando in realtà potevamo tranquillamente cancellarlo ieri quell'articolo 13 bis Qual è quindi il dato? Il dato è politico, il PD cerca di nascondere sotto il tappeto e magari di frenare una palla che vediamo scoppiata in questi giorni di spaccatura interna portando in aula questa legge Ecco, questa legge poteva essere portata all'inizio della legislatura perché che l'emendamento non era legittimo e che quella legge è stata impugnata per quell'emendamento si sapeva fin dall'estate scorsa Chi dovrebbe dimentersi? Che conseguenze politiche dovrebbero esserci? Intanto noi auspichiamo e ringraziamo la magistratura per aver portato all'attenzione questa problematica Io credo che tutti i consiglieri che non mettono al primo posto il bene dei cittadini la salute dei cittadini e del territorio ma mettono al primo posto se stessi portando avanti e piegandosi magari anche a logiche che sono inaccettabili per chi ricopre un ruolo istituzionale come questo forse dovrebbero pensare di fare altro nella vita Quell'inchiesta vede coinvolti anche alcuni terreni nella inversiglia a Massarosa c'è la preoccupazione? L'ARPA sta facendo quello che deve fare? La zona è quella di Montramito io sono in contatto con l'assessore Monni perché faccio anche il consigliere comunale a Massarosa e stiamo cercando di capire come risolvere quella problematica sappiamo che insiste su un'area industriale dove ovviamente noi abbiamo intenzione di creare sviluppo e tanti posti di lavoro quindi il tema è spinoso perché poi è in una zona che è molto vicina dal punto di vista di falda a tutte ha un'altra problematica che è quella del Padule e del Lago quindi le pressioni le stiamo facendo sia come amministrazione comunale che tramite me in Regione che ovviamente sento e parlo costantemente con l'assessore Monni speriamo che ARPAT si svegli e che i controlli che deve fare parte li hanno già fatti i proprietari dei terreni vengano fatti come riprova di quelli fatti dai proprietari il prima possibile per cercare di fugare ogni dubbio sperando che sia tutto a posto per procedere anche per lo sviluppo di quell'area La vicenda non è chiusa oggi partono i lavori della commissione d'inchiesta che speriamo faccia luce sui rapporti che ci sono stati che sono oggetto dell'indagine della direzione distrettuale antimafia si tratta di un sistema, quello dei rifiuti in Toscana che per certi versi si regge da un lato su un sistema particolare degli accordi di programma che derivano dai primi anni 2000 e dall'altra parte su tantissime deroghe di cui beneficiano anche tante troppe discariche questo è un sistema che va risolto perché chiaramente lascia aperti spazi alle infiltrazioni di chi offre i propri servigi che servono a smaltire più facilmente e con meno costi con naturalmente connivenze con la malavita organizzata e questo non è più tollerabile perché la Toscana è una terra non soltanto di turismo ma anche di crescita e di sviluppo e deve garantire ai toscani benessere e non lasciare ai nostri figli un ambiente pieno zeppo di rifiuti sotterrati da tutte le parti La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da 40 giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal Partito Democratico locale e regionale del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza in termini però un po' più enfatici e soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione ma in altra sede che sarà quella del Tribunale del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma come è stato definito anche dagli organi inquirenti ci sono delle giustificazioni da dare a Toscani proprio perché in questo momento non si tratta soltanto di una fragilità di un sistema istituzionale che ormai l'intera Toscana vede come diciamo prono per certi versi ad interessi che non sono quelli pubblici non parlo soltanto di questo caso questo purtroppo è quello che appare alle persone ma soprattutto del perché si sia andato in questa direzione e soprattutto se il problema ambientale rischia di essere molto più grande di quel vaso di Pandora che è appena stato scoperchiato dal punto di vista amministrativo pensiamo di aver dato una risposta togliendo alla competenza della Corte la necessità di doversi pronunciare rispetto ad una parte della legge che così come era stata emendata rischiava se la sentenza fosse avversa di annullare un impianto normativo che è quello che consente di avere in Toscana gli impianti misti vale a dire quegli impianti che in maniera virtuosa trattano reflui degli smaltimenti delle aziende industriali insieme a quelli civili creando quindi un principio di economia circolare e portando dei benefici anche per quanto riguarda il risparmio nello smaltimento dei reflui civili quindi questo atto che abbiamo compiuto unanimemente oggi da un punto di vista amministrativo dovrebbe mettere al riparo la normativa esistente che è la normativa che ha consentito a partire dagli accordi del 2004 fatti tra la Regione le istituzioni locali il Ministero dell'Ambiente e le aziende in questo caso il distretto conciario di poter dare vita con investimenti pubblici e privati ad impianti di questo tipo che valgono per quel distretto come possono valere anche per altri distretti industriali mi posso chiedere quello che emerge secondo me anche in molte dichiarazioni una sorta di rimpallo di responsabilità evidente tra vecchio e nuova giunta lei è il capogruppo del PD come valuta questa situazione e che risposte dà chi solleva il PD? ma guarda io penso che se stiamo agli atti e se usciamo dal rimpallo delle responsabilità ne traiamo un comportamento che è corretto e coerente quando era stato posto il quesito è stato detto di no e questo da parte della giunta che mai discusse di questa modifica normativa perché semplicemente si era fermata all'approfondimento tecnico negativo successivamente il consiglio attraverso un emendamento forse anche per un tentativo di semplificazione ha approvato quell'emendamento nel momento in cui cioè è emerso che quell'emendamento poteva mettere potrebbe mettere a rischio invece la tenuta dell'impianto normativo che in Toscana lo ripeto consente impianti misti quindi impianti in grado cioè di trattare contemporaneamente e in maniera positiva sia i reflui industriali che quelli civili anche a seguito dell'inchiesta e la magistratura è corretta è giusto che faccia la sua parte che faccia i suoi approfondimenti che metta le sue sentenze noi ne abbiamo il massimo rispetto siamo intervenuti per togliere anche questo rischio che incombeva sull'impianto normativo che tutti mi sembra con il voto di oggi riconoscono come un impianto valido voltiamo pagina il consiglio regionale della toscana ha approvato una risoluzione che impegna la giunta a proseguire nelle azioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nel comparto tessile a partire dagli strumenti previsti dalla legge regionale 28 2019 con l'obiettivo di dare continuità nei prossimi anni al piano straordinario di intervento sia per le aziende straniere che italiane operanti in toscana accanto alla ripresa di interventi formativi previsti per le imprese ed interrotti dalla pandemia covid-19 ovviamente questa risoluzione segue il dramma di Luana Dorazio la giovane morta proprio in un'azienda tessile toscana sentiamo a questo proposito la presidente della commissione politica e del lavoro Ilaria Bugetti beh questa proposta di risoluzione parte da un pregresso cioè da un lavoro che la regione toscana ha svolto già in questi anni che poi ha portato dal primo dicembre del 2013 con la morte di sette operai a Prato in un'azienda cinese ha portato poi alla legge 28 del 2019 con un percorso lungo da cui sono partiti poi tutti i controlli e le ispezioni nelle varie aziende fino ad arrivare ad un numero di aziende che supera le 8200 aziende controllate con l'assunzione di 74 ispettori e con soprattutto accordi interistituzionali con le forze dell'ordine con le associazioni di categoria con i sindacati quindi un lavoro serio duraturo e programmato fatto nella regione da tanti anni ora siamo al momento in cui partendo dal tragico episodio della morte di Luana Dorazio ma senza dimenticarsi delle altre vittime purtroppo oggetto di tragedie in questi primi mesi in regione toscana sono oltre 13 purtroppo abbiamo voluto lanciare un segnale di rilancio di questo tema su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia cambiano le condizioni cambiano i macchinari cambiano le regole e quindi la regione toscana ha l'obbligo di vigilare ma di stare a fianco anche ai lavoratori alle imprese per consentire di avere una sempre maggiore attenzione su come si sta nei luoghi di lavoro ecco perché ho parlato di cultura del lavoro e di cultura dei lavoratori abbiamo chiesto in particolare che nel PRS entrasse il finanziamento come capitolo di questa della legge lavoro sicuro abbiamo chiesto che ripartissero i corsi di formazione che vengono fatti nell'asra toscana centro che erano stati sospesi per il covid e abbiamo chiesto che con le commissioni addirittura si potesse arrivare a fare anche delle modifiche qualora necessarie alla legge 28 in modo da prevedere non solo le imprese straniere ma anche le imprese italiane sempre con il principio costruttivo di aiutare sia le imprese che i lavoratori a stimolare e a seguire le regole nella miglior maniera possibile è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio grazie per l'attenzione e buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti